Ciao Fraggers, come sei? Voglio mostrarvi questo video dove ho usato tre build, Chaos Builds con il School Artifact Level 5, Tire 5 e ho avuto molto divertente con questo Artifact Queste non sono le build competenze Quindi piacere il video, piacere il video e vediamo la prossima XOXO, FROM URUNDO! E come sempre, ricordate che stiamo recrittando quindi se siete interessati, unire i nostri Discord server e DM i miei o altri laddors Vi vediamo la prossima, bye bye! A presto! A presto! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.